Bene, dopo due mesi praticamente riprendiamo il nostro campionato di Serie B2, abbiamo fatto il 30 gennaio, siamo ripartiti da capo, purtroppo questa pandemia ci ha un po' colpito, abbiamo avuto un po' di ragazze positive e questo protocollo che esiste a livello sanitario, che quando una ragazza si negativizza deve stare ferma 30 giorni prima di fare la visita medica sportiva, ci ha un po' tagliato le gambe. Ora riprendiamo con qualche duna di loro, sono rientrate tre ragazze da una settimana e pertanto abbiamo fatto un recupero un po' veloce, tecnico, tattico, a livello fisico sono quello che sono purtroppo, in attesa poi che dentro anche le rimanenti ragazze, per poi ricominciare a lavorare come siamo abituati a lavorare. Quindi la partita di sabato, più che preoccuparmi del peschiera, mi devo preoccupare della mia squadra, per noi sarà una partita all'insegna di molti dubbi, abbiamo fatto un po' di fase di gioco per vedere alcune situazioni, ma siamo ben lontane da come eravamo un mese fa e non può essere altrimenti. Tutto sommato però non ci possiamo disperare perché poi comunque alla fine è qualcosa di importante la salute e il fatto già che le ragazze sono tornate in palestra è già una vittoria di per sé. Adesso dobbiamo avere pazienza, fino a Pasqua abbiamo una partita a settimana, poi dovremo recuperare tutte le partite rimanenti e abbiamo praticamente un tour de force dove giocheremo fino al mese di maggio, praticamente ogni tre giorni. Quindi lì dovremmo cercare di entrare un po' in forma a livello fisico e poi sopportare un po' tutti i carichi di queste partite. E questo campionato qui sarà anomalo, però tutto sommato anche divertente perché comunque ci porta a dover lavorare, adattarci un po' alle situazioni che cambiano di volta in volta e quindi anche tutti i sistemi di programmazione saltano o comunque devono essere adattati, verificati, ripianificati e devo dire che però è anche stimolante perché lavorare con ragazze molto giovani che comunque si mettono sempre a disposizione a ritornare indietro a fare alcuni lavori che si davano magari per scontati è anche bello vedere la loro dedizione. Quindi nulla, diciamo che la vittoria è sicuramente a riprendere a giocare dopodiché vediamo quel che accadrà sabato ma la vedo abbastanza dura perché comunque Peschiera è una squadra molto esperta, molto forte giocano nella loro palestra dove non è facile per chi ci va a sapere interpretare una partita con le misure un po' ridotte e quel che più guarderò sarà un po' il capire come siamo messi rispetto a loro.